Un settore, quello della pesca, che sembra avere sempre problemi e non parliamo di problemi di poco conto ma problemi di un certo peso. Stavolta a pesare non è il granchio blu, non è l'acqua grossa, che arriveranno comunque più tardi in stagione come ogni anno, ma sono le meduse. I pescatori oltre le tre miglia tra Chioggia e Venezia la scorsa notte hanno riempito la barca di meduse, hanno dovuto far rientro in porto in quanto non si riusciva a pescare. Già negli anni scorsi più o meno in questo periodo si lamentavano i pescatori di laguna i cui cogoi si riempivano di meduse non di pesce, finendo con rendere difficoltose anche le operazioni di recupero delle reti stesse. Il cambiamento della temperatura del mare aiuta l'incremento di alcune popolazioni ittiche nei nostri mari che magari da anni sono presenti ma che non si sono mai manifestate con numeri tanto elevati. La situazione granchio blu in questo momento non sembra essere preoccupante, avvistamenti e catture ce ne sono ma non in modo così massivo da essere considerato un pericolo eclatante ora. Si tratta comunque di situazioni da monitorare. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.